Buonasera, bada che l'è ritornata a casa, bada nel garage dei maestrini che gli è tornato, il bambino, guarda il mio bambino ragazzi tutto restaurato, guarda che bellezza, sì, sì, siamo nel garage dei maestrini. Vedo un caino laggiù nascosto, oh il mito è molto buono, ma ritorniamo a noi, oggi soppresa, soppresina, soppresina, mi hanno riportato questo bambino qui, guarda che bellezza, guarda che bellezza, guarda che bellezza. Guarda che bellezza, guarda che finitura, vada lì è, fatto da un certo, certo questo l'è proprio, l'è proprio diciamo, l'è proprio, parla da sé. Un salutino dal garage dei maestrini e in particolare fischia. Ciao! Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!